Coniglio solo per gioco, Francesco Facchinetti regala ai bambini la sua voce in Hope, il live action diretto da Tim Hill con cartoni animati e umani. Lui è CP, un coniglietto pasquale che non vuole seguire le orme paterne e scappa ad Hollywood per far diventare realtà il sogno della musica. Lì sarà incidentalmente investito da Fred, un trentenne con la sindrome di Peter Pan. Insieme cresceranno e ne combineranno delle belle. Francesco, felice come una Pasqua, ha presentato il film a Roma con Luca Argentero, la voce italiana di Fred, e James Marsen, l'attore americano che lo interpreta.